Noi su questo punto non abbiamo formulato in realtà emendamenti, però vogliamo ricordare che accanto al vilipendio del Presidente della Repubblica vi sono delle altre ipotesi di vilipendio, lo stesso vilipendio alla bandiera. Ma noi vogliamo ricordare in questo contesto, ci permetta l'Aula di farlo, che c'è una bandiera che ha oltre mille anni di storia e che è stata umiliata dallo Stato, è stata vilipesa dallo Stato per oltre 150 anni, ma i Veneti il 31 maggio hanno voluto con il proprio voto alzare con orgoglio questa bandiera ed è la bandiera del Veneto. Per favore gli assistenti.